Sono solito affermare che il mestiere dell'amministratore di condominio sia un insieme complesso di attività semplici ed è proprio in quest'ottica che andando a analizzare tutte le svariate attività che il nostro studio ha effetto quotidianamente per i condomini amministrati abbiamo scoperto che il 95% delle attività dello studio è legato al back office, quindi al lavoro d'ufficio e di questo ben il 30% è legato all'email e quindi nell'ottimizzazione del tempo impiegato dalle varie persone che lavorano in questo ufficio e quindi dei costi che questo produce abbiamo iniziato a cercare uno strumento che potesse incidere specificatamente in quest'ambito e abbiamo trovato Tueppi e devo dire che Tueppi è veramente un ottimo supporto innanzitutto perché siccome molte di queste attività possono essere, sono ripetitive e possono essere raggruppate in un vero e proprio processo Tueppi aiuta a lavorare e a ragionare per processi facendo in modo che per ogni tipologia di gruppo, di gruppi di attività in maniera praticamente automatica il sistema nel momento in cui andiamo a indicare partendo magari da una mail, da una richiesta o da un evento di calendario vada a distribuire questi incarichi in automatico alle varie persone, ai vari incaricati all'interno dello studio permettendo quindi di non dimenticarsi nulla per strada e di poi effettuare una vera e propria verifica su tutto ciò che ancora deve essere fatto è quello che c'è ancora da fare inoltre tutta la parte di collaborazione permette di risparmiare ulteriore tempo di scambio di parole o di interruzione di lavoro perché Tueppi permette proprio di collaborare quindi scambiarsi opinione, richieste attraverso il software senza dovere in qualche modo alzarsi e andare alla scrivania o nelle stanze degli altri interrompendo di fatto il lavoro che stanno eseguendo in quel momento e quindi permettendo di una maggior pianificazione delle attività che vuol dire appunto migliorare sia l'efficacia che l'efficienza del lavoro e lo studio stesso quindi quello che posso dire è che Tueppi è uno strumento che assolutamente ci sta aiutando a mantenere quelli che sono i nostri standard elevati che vogliamo mantenere di qualità di servizio verso i nostri amministrati e che soprattutto ci fa raggiungere l'obiettivo che è quello di fare in modo che le persone siano tranquille a casa loro interessandosi del loro condominio ma senza preoccuparsene troppo e poi devo dire anche migliorando e aumentando ancora di più la fiducia che i nostri clienti hanno nei confronti del nostro studio